Il campo del centrosinistra ci arriva un po' rimaneggiato, quantomeno ci arriva in maniera un po' strana rispetto anche alla natura del centrosinistra, alla storia del centrosinistra. Ci arriva a Firenze probabilmente sottovalutando o forzando un po' troppo la mano da parte della classe dirigente del PD Fiorentino perché probabilmente è convinta di un percorso che legittimamente magari lo porta ad avere il risultato sperato nel più breve tempo possibile preparandosi a una campagna elettorale che praticamente già dal mese scorso è iniziata. Non parlerò mai male delle primarie perché ci ho sempre creduto è nella natura del PD e ha spiegato perfettamente bene il direttore che i tempi potevano essere gestiti in modo diverso ma arrivando magari allo stesso risultato. Il caso di Empoli, non lo dico per citare un esempio casalingo, è un caso in cui si è arrivati lo stesso alla scelta dalla disegnazione di un candidato senza le primarie ma con una semplicità e una armonizzazione del percorso molto molto più normale. Cos'è che ha fatto la differenza Empoli rispetto a Firenze? No è chiaro che sono due realtà che io conosco bene totalmente imparagonabili per numero di abitanti, storia, definizione delle candidature dei sindaci uscenti, tutto. Ma il partito è lo stesso, ma la genesi e la storia del PD è la stessa e credo che la differenza sia nella classe dirigente. Alla fine una classe dirigente che comprende la difficoltà, comprende anche il rischio che per la prima volta le elezioni siano contendibili. Di fronte a questo problema una classe dirigente si interroga e cerca una soluzione, che non può essere sempre la scorciatoia del decido io, ma tante volte deve essere quella di allargare le spalle, di cercare di non aver paura di aprirsi non alla società civile, ma a quelli che sono i problemi che purtroppo le attenzioni o le mancanze che purtroppo un partito non è riuscito a raccogliere o più partiti non sono riusciti a rappresentare. Poi non è detto che chi governa fa sempre tutto bene.